Siamo allo sport, ancora un tie-break fatale a Milano per la Sir Perugia che perde gara 4 dei quarti di finale contro i padroni di casa. La serie così si allunga pericolosamente. Gara 5 si svolgerà al Palabarton. Milano domina nel primo set, poi va sotto, ma è brava a riaprire la quarta frazione. Il quinto set è un continuo punto a punto fino al decisivo 15-13. Anastasi e i suoi ragazzi giovedì sera, dopo la sconfitta dell'andata, si giocano anche l'accesso alla finale di Champions contro i polacchi dello Zaxa. La Bartoccini, forti infissi Perugia, lotta, ma come era prevedibile nulla può in trasferta contro la corazzata Chieri, reduce dal successo nella Challenge Cup. 3-0 il finale e la salvezza si allontana. Le Umbria infatti sono state scavolcate in classifica da Pinerolo. E nell'ultima giornata, per evitare la retrocessione, devono battere in casa con Eliano prima in classifica. e sperare nella contemporanea sconfitta delle piemontesi impegnate proprio contro Chieri.